Signore Gesù, insegnaci ad amare. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici e buon inizio settimana. Il Signore è con noi, il Signore non ci abbandona e come segno della sua fedeltà ci ha donato la sua parola. Oggi la accogliamo leggendo il Vangelo secondo Luca, capitolo 10, dal versetto 25 al 37. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse che cosa sta scritto nella legge, come leggi? Costui rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. E' il tuo prossimo come te stesso. Gli disse, hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e che è mio prossimo? Gesù riprese, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che li portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandoli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo, abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose, chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse, va e anche tu fa così. Amen. Oggi, carissimi amici, il Vangelo ci parla di una situazione in cui questo dottore della Lecce si avvicina a Gesù cercando in lui una risposta quasi provocatoria, per metterlo alla prova nel vedere la sua risposta, ma soprattutto esplicita, manifesta a Gesù il suo desiderio di avere la vita eterna e sembra quasi che ne sia convinto di possederla. Noi sappiamo che in particolar modo i farisei e i dottori della legge quasi avevano la certezza di ereditare la vita eterna, perché seguivano Dio, erano la stirpe letta, meditavano, studiavano, insegnavano la Lecce, ecco perché vanno da Gesù in questo atteggiamento. Gesù cosa risponde? Cosa c'è scritto nella Lecce? Che cosa leggi? Qual è la tua risposta personale? E il dottore della Lecce cita Deuteronomio 6 e Levitico 19, cioè da un lato lo Shema Israel, l'inizio, ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, amalo con tutto il tuo cuore, la mente, le forze, e nel Levitico ama il tuo prossimo come te stesso e li metti insieme in un'unica sentenza. Ecco allora che Gesù gli dice, hai risposto bene, fa questo, mettilo in pratica e vivrai. Quanto è importante, cari amici, accogliere quindi ciò che già Dio nell'Antico Testamento, nella Prima Alleanza, aveva detto ad Israele, nello Shema Israel. Aveva detto ad Israele, nel Libro del Levitico, questi comandi dati per mezzo di Mosè, quanto è importante metterli in pratica. E questo dottore della Lecce sapeva che c'era un lato di questo precetto che non metteva in pratica. l'amore verso il prossimo e si vuole giustificare e vuole prendere le distanze dicendo, sì, ma io adempio la prima parte, ama il Signore Dio tuo con il cuore, la mente, la tua anima, la forza. Quindi dice, chi è il mio prossimo? Dicendo, io non lo so. In un modo anche ingenuo. Ecco perché Gesù poi racconta questa parabola che noi chiamiamo del buon samaritano. La conosciamo molto bene, lo abbiamo letta e ascoltata anche oggi. Vediamo quest'uomo che scendeva da Gerusalemme verso Gerico, caduto nelle mani dei briganti, ha avuto queste percosse ed è rimasto mezzo morto sulla strada. Passano tre persone, un sacerdote, un levita, che di solito almeno una o due volte all'anno erano soliti a passare per quella via perché da Gerico a Gerusalemme andavano a fare il servizio liturgico. e questi non si fermano, non lo aiutano, non li stanno accanto, anzi vanno dall'altra parte poiché la legge stessa diceva che avvicinarsi o toccare un uomo mezzo morto era segno di contaminazione. Ecco perché loro si discostano e Gesù ne parla riferendosi anche ai dottori della legge e ai farisei in un modo potremmo dire sotto sotto un po' subdolo. Mentre quando una terza persona, un samaritano considerato pagano da Israele passa per quella medesima strada si ferma ne ebbe compassione e inizia ad aiutarlo fino a salvargli la vita. Carissimi amici ecco il cuore della legge ecco il cuore del Vangelo non è una novità già Dio al popolo di Israele lo aveva detto nella prima alleanza e Gesù lo riporta alla luce ama il tuo prossimo come te stesso qualcosa che difficilmente noi sappiamo riusciamo a fare nella nostra vita perché siamo sempre amareggiati indispettiti siamo sempre arrabbiati il mondo ci insegna questo ogni cosa che accade noi proviamo in qualche modo rabbia perché doveva andare in un altro modo e perché la nostra vita la nostra famiglia la nostra persona non riesce ad avere la pace ecco perché molto spesso noi non riusciamo ad avere compassione degli altri misericordia degli altri eppure questa è la via per ereditare la vita eterna e Gesù ce l'ha dimostrato che cosa fare allora fratelli e sorelle come questo samaritano ma non lo riusciamo a fare da soli ma soltanto con l'aiuto dello Spirito Santo è lo Spirito Santo che è lo Spirito del Padre lo Spirito dell'amore vero l'amore puro l'amore che non guarda in faccia al peccato altrui alle distanze alle differenze ai muri l'amore che raggiunge ogni cuore l'amore che mi dà la forza di andare verso il mio prossimo per questo fratelli e sorelle oggi non c'è molto da commentare su questo passo del Vangelo e su questo comandamento che Gesù riprende e rinfaccia in qualche modo al dottore della legge ma c'è da pregare dobbiamo chiedere questo grande dono allo Spirito Santo quel dono che Gesù stesso aveva lui era l'amore di Dio pregate insieme con me dicendo vieni Spirito Santo abbiamo bisogno di te Spirito Santo abbiamo bisogno di una nuova esperienza dell'amore del Padre Spirito Santo vieni nella nostra vita Spirito Santo intervieni nelle nostre incapacità intervieni nelle nostre mancanze di amore nelle nostre mancanze di perdono Spirito Santo io ti chiedo di aiutarmi perché io possa mettere in pratica la tua legge Spirito Santo vieni insegnami ad amare come Gesù ha amato me come il Padre mi ama come il Padre ha mandato il suo Figlio Gesù per donarmi la salvezza aiutami ad essere come questo Samaritano sempre aperto disponibile ad aiutare il mio prossimo colui che è vicino a me nella mia casa nella mia famiglia nel mio lavoro coloro che incontro grazie Spirito Santo perché so che tu mi ascolterai perché io sinceramente ti ho chiesto aiuto vieni nella mia vita e insegnami ad amare a te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli ame cari amici chiediamo al Signore la capacità la forza di amare il nostro prossimo Signore Gesù insegnaci ad amare e Lui davvero ci insegnerà ad amare attraverso il dono del suo Spirito Santo che sia davvero così fratelli e sorelle grazie per avermi accolto buona giornata e buona settimana a domani ciao parla Signore perché il tuo servo ascolta parla a mi Signore ti ascolto parla Signore perché il tuo servo ascolta parla a mi Signore per avermi accolto per avermi accolto